lo zodi 105 presenta treste di casting finalmente sta per partire in italia una nuova serie dedicata ai bagnini le vittime dovranno simulare il salvataggio di un giovane e piacente ragazzo al momento della respirazione bocca a bocca farà irruzione la fidanzata del nostro complice e comincerà ad aggredire la vittima accusandola di volerle rubare il fidanzato che costume sobello ciao buongiorno madonna santa scusate ma non riesco a guardare negli occhi questa ragazza perché ha delle spalle bellissime scusa potresti franare per e noi stiamo cercando protagoniste e coprotagoniste per l'edizione italiana di baywatch stiamo cercando ovviamente le bagnine naturalmente tu dovrai fare la scorreggione purtroppo il personaggio che stiamo cercando in questo momento è affetto da problemi gastrici lo scorreggi mai tu la scorreggia l'hai mai fatto sì sì simulami la scorreggia con la scorreggia in uno stadio non ti vede nessuno se lì da solo se lì da solo in uno stadio non te ne vede nessuno fammi anche il rumore con la bocca è arrivata tutta figa quei tanti scorreggia e ci faccio a fare la scorreggia fa la sedere tipo moto d'acqua ti ho delle indicazioni moto d'acqua mare forza c adesso c'è il banco di meduse trasforma questo coso in un'arma e tienile lontane tiri lontane dall'acqua via medusa le meduse si sa che parlano brasiliano diglielo in brasiliano via medusa via medusa vattene adesso come se fossi cinese mentre tu sei lì che giochi a beach volley vieni crivellata di colpi io ti farò i colpi battendo su questo tavolo e ti colpirò il braccio destro e la gamba sinistra mentre tu giochi a beach volley pronti gioca felice così attenzione aiuto qualcuno mi ha sparato aiuto facciamo entrare Andrea per favore rifacciamo la scena della crivellata di colpi quando lo cerchi di svegliare gli gridi svegliati astro aiuto mi hanno sparata respirazione bocca a bocca questa è la frase più importante del film Perry Mason stolto deve gridare astro aiuto mi hanno sparata adesso guarda la e devi dire Perry Mason per person a stolto tragedia tragedia guarda come ho spalentato stavamo facendo il casting cammin Ma non ti devi incassare, ti devi mettersi a posto i segni, sta finendo il mondo e adesso si mette a posto i segni, non sto lavorando Ma non te la prendi, ma non c'entra niente, non c'entra niente, adesso si mette a posto le tette, ma chiedi scusa Non si mette a posto le tette, guarda lei come è presa male, stanno facendo il provino L'eroina signori! Ma lui mi ha detto che non era a fare un provino con una... Ti ho detto che stavo lavorando, non sto facendo niente, meno che molto si fa Ma se sta con te, sta con te, cioè Ti ho capito, ma intanto si bacia a te Ma è un cazzo! Ma no, dimmi, dimmi che cosa lei ha chiuso di me Ma io per favore, possiamo coprire, possiamo coprire questa roba Siamo un livello, non è più gioco, io ce l'ho più grande, io ce l'ho più grande Andiamo, andiamo, andiamo